C'era una volta al top di Sole 63. Mi tornò in mente quello shooting fotografico a cui avevo partecipato con entusiasmo, una bellissima esperienza che rifarei anche domani. Sentivo che dentro di me stava tornando una grande forza, un coraggio che chissà dove avevo nascosto, quel coraggio che mi permise di alzare lo sguardo e fissare negli occhi lui. Mi vennero in mente anche tutti i suoi gesti. Lui diceva di amarmi. Mi portava la colazione alle 5 del mattino, mi accompagnava al lavoro e mi veniva a riprendere per evitare che mi stancassi con l'autobus. Gesti davvero gentili. Non mi lasciava mai sola e quando eri impegnato con il suo lavoro mi diceva che potevo stare con sua sorella per avere compagnia. Lui mi amava o almeno così pensavo. Mi aveva convinta che ogni suo gesto e ogni sua parola fosse dettata dall'amore. Ora il suo sguardo di ghiaccio sembrava volermi sgretolare ancora, ma ora toccava a me impedirlo. Solo a me.